Ehi, faccina. Ehi. E' questa per lasciarmi? Sempre per questa, per muovere tutte e due. Cioè, prima fai così, no? E dopo sposti tutto. Ok, capito. Dobbiamo aumentare un po' la pressione. E magari la temperatura anche? Si, deve salire. Ma quanto può arrivare la temperatura? 60. 60 il massimo. Il massimo. Loro mettono 60. Si può andare anche un po' di più. Ciao, 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 ciao.